In nome di tutti e di parte del popolo qui vogliamo expressare una felicità inmenso, grazie a tutti i gran Dio per il riscate di tutti i tripulanti di La Rumbera. Vogliamo anche di tutti i nostri bandi per grazie a tutti i autorità di Aruba, Corso, Reino, in particolare anche in Colombia, Venezuela, Panamà. Tutti i cittadini hanno una propria iniziativa a dare un apporto ai familiari che ha fatto una priorità per il conoscenza di tutti i nostri bambini, per la solidarietà del popolo di Aruba con il caso di convivere, che è una travessia difficile qui di Giawebs a rapportare con la rompella, che sta perdendo. Vogliamo anche di tutti i nostri bambini per la cooperazione, l'appoio e la solidarietà. In primo lugar, vogliamo considerare che i nostri grandiosi, i nostri bambini, i nostri bambini, i nostri bambini, sono un regalo grande per il fin di anno qui. In particolare, mi penso che quando ci siamo in Panamà, noi siamo in contatto con i nostri bambini, e non è una delle nostri bambini, ma mi penso che inizia con le autorità di attuare. Mi chiedo è in particolare, a pesar che ci sono messi alle nostri bambini, che non stanno arrivare in La Guajira, per noi che grazie al Pueblo Wayu e al Tributo Wayu per abbrire la cordialità e l'hospitalità di ricevere il risultato di fare la base navalna dell'Armada Colombiana per arrivare a Aruba pronto. Mi credo che dopo che il cittadino di arrivare a Aruba mi lo diceva di avere un'altra discussione per se non topeva ora qui. Mentre sono in Panamà, il collega Andin Becker correttamente guarda il tempo con il comitato amenazzo di trasporti. Noi sono arrivati a discutere il tema di sicurezza, di non andare a Aruba, ma mi credo che questo è un tema che noi stavamo a conversare, a Aruba già, e poi ci sono arrivati. Noi sono arrivati a un momento, e mi chiede a expressare che noi siamo sumamente contenti perché la gente stucia sano e salva. Abbiamo molto contenti che la gente ci cooperative allare come diverse posti sulla FB. C'è un momento dove la gente si sta con una chiamata, si sta parlando il volto, si sta parlando il avion, che si sta parlando di cooperare per aiutare. In caso di Aruba è un momento, questo tour di Corazonti, per non ricordare che un giorno c'è un romano, un iu, un tata, un primo e ojalá con i turcini lasciano un buon ordine. E' un regalo che rende la raiola di ora, che è il posto di Uri Paueta, con un strumento, un dato momento, qui va a votare la cerca, di Dio sta grande e è un regalo grande con il nostro paolo di Raiola, per la notizia che la gente sta bene.